Una sfida i cui risultati sono andati di gran lunga oltre le previsioni. Quella ambientale della raccolta differenziata sta dando grosse soddisfazioni all'amministrazione comunale di Castel San Giorgio. Amministrazione che ha operato ed opera coinvolgendo tutte le categorie sociali, ma utilizzando come traino di una nuova mentalità ecosostenibile soprattutto le scuole. Abbiamo tante azioni che bollono in pentola. L'amministrazione Longanella si è distinta in tutti i campi e soprattutto in quello ambientale dove il sindaco ha dato una piena svolta a quello che accadeva prima. Oggi abbiamo dei risultati confortevoli, fortissimi. Veniamo adesso dall'inaugurare il protocollo d'intesa con le scuole dove abbiamo presentato la compostiera che daremo a 500 cittadini attraverso un bando. Attraverso la compostiera i cittadini potranno anche risparmiare in percentuale da un 3 a un 10% sulla tassa dei rifiuti. Non solo, ma potranno anche risparmiare nell'acquisto di fertilizzanti perché la compostiera, come ben sapete, dopo 8 mesi l'umido diventa concime. Abbiamo ricevuto un finanziamento, questo lo voglio sottolineare, uno dei tanti finanziamenti che abbiamo per le politiche ambientali dove abbiamo acquistato 500 componieri e un nuovo mezzo di autocompattazione per i rifiuti. Abbiamo diminuito i nostri rifiuti in discarica di ben 200 quintali e pensate che il comune di Castel San Giorgio, quindi i cittadini di Castel San Giorgio, pagano per ogni quintale prodotto 170 euro. Oggi in solo due raccolte questa amministrazione è stata capace di far risparmiare ai cittadini san giorgesi circa 3.400 euro. Ciò significa vivere in un paese con più servizi, in un paese più civile, più bello e perché no anche da un punto di vista ambientale all'avanguardia. Ci saranno ancora tantissimi servizi che metteremo in campo. Abbiamo concluso l'accordo col consorzio, quindi dal 1 aprile partiremo con la raccolta del vetro porto a porto, un'altra forte iniziativa che ha voluto il sindaco.